ciao a tutti ciao a tutti benvenuti a un nuovo appuntamento con cristiano ruiu tv un'altra live per il secondo giorno consecutivo devo dire la verità quella di ieri l'ho fatta col sorriso di buon umore quella di oggi un po meno perché insomma lo so che molti di voi mi hanno detto mi hanno scritto anche su facebook anche su twitter che facevano il tifo addirittura per l'inter perché il milan deve avere l'obiettivo di entrare nelle prime quattro e quindi sarebbe stato importante mettere grande distanza nei confronti dell'atalanta io ritenevo l'inter strafavorita per questa partita e alla fine l'ha vinta però insomma esultare per una vittoria dell'inter non riesco fare il tifo per l'inter non riesco e quindi la partita di questa sera mi ha lasciato un po l'amaro in bocca perché sinceramente speravo che l'inter non battesse l'atalanta addirittura mi auguravo che perdesse e invece ha vinto anche stavolta e direi che quella di quest'oggi è veramente la pietra tombale sul campionato che ha un solo padrone ed è l'inter anche questa sera ha sofferto ha giocato come meglio sa si è coperta si è chiusa per poi provare ad approfittare in contropiede ha trovato su uno dei pochissimi calci d'angolo battuti a favore il gol e ha ragione eren che saluto che giustamente esulta per la sua fuga la fuga dell'inter e dice stile atletico madrid vero vero una vittoria davvero stile atletico madrid sono d'accordo un gioco simile a quello del ciolo gol trovato su calcio d'angolo dove l'inter è sicuramente molto attenta molto determinata maniacale nelle marcature quando subisce i calci d'angolo è pronta ad approfittarne quando li batte in questo caso l'atalanta ha marcato in maniera molto leggera sul calcio d'angolo che è risultato decisivo per questa partita e secondo me per il campionato perché davvero l'inter battendo l'atalanta che era uno degli ultimi ostacoli sicuramente l'ultimo ostacolo nel breve con nei confronti della di questa fuga scudetto diciamo che l'ha superato e l'ha superato brillantemente perché anche il secondo tempo dopo il gol l'inter si è chiusa bene praticamente non ha sofferto mai soprattutto nel primo tempo l'atalanta ha fatto vedere di essere più forte pazienza 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 andiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno che è il fatto che milan adesso è a più sette punti dal quinto posto ed è una bella un bel bottino insomma un bel cuscinetto che però non basta da qua a fine anno ovviamente saluto tutti gli altri nico 27 benvenuto nico 27 saluto a termonvigno ciao un saluto a mario sempre presenti il nostro abbonato mario che sfiga l'ip 88 si l'atalanta non è stata fortunatissima però secondo me nel secondo tempo ha smesso di attaccare in maniera lucida è andata un po' alla rinfusa e l'inter non ha avuto grossi problemi l'inter si è difesa molto bene un saluto a edikei domani si sono a cui studiavo il stadio sono in diretta dalle ore 19 se non vado errato fino a mezzanotte seguiremo insieme la juve ma io vi dico esattamente come pensavo che stasera l'inter vincesse allo stesso modo penso che domani sera la juve abbia tutte le possibilità e ribalterà il risultato dell'andata perché il porto questo porto è davvero poca poca cosa un saluto anche a bank pro 727 vedo nominato il porto e si è presentato il nostro amico da lisbona l'ip è vero andano vice stato migliore dell'inter migliore non lo so è stato un protagonista di due tre interventi importanti però alla fine hanno vinto e nel calcio non c'è il giocometro ma c'è il risultato che è purtroppo a loro favore un saluto a se c'era nedved live lamps è il nostro super abbonatone l'inter ha cucito buona parte lo scudetto stasera sono d'accordo con te vittoria determinante infatti visto un risultato proprio come se fosse una vittoria scudetto buonasera lì sempre più triste lo so marco linux altro grande nostro abbonatone buonasera cristiano meglio così ma lo so che tu sei ottimista e sei contento di questo risultato io poi magari a fine nell'anno sarò contento perché arrivano davanti all'atalanta però stasera non lo sono inter tolgo il pullman e arrivo carina carina riboc 96 ciao kabum 95 ciao un saluto anche a me in orna tutti i nostri grandi classici così come marcone zlatan un abbonato fresco 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 e lo so anche tu dici meglio atalanta meno 7 e lo so però io non non riesco a esultare per il vittore dell'inter sawifa da intervista dico che l'anno scorso queste partite non le avresti vinte come la pensi te sono d'accordissimo questa è la classica partita che vinci l'anno che vince lo scudetto sono d'accordo con te un saluto a tutti gli abbonati del canale li elenco subito live lamps tv mario rox stemfios pie cassa 96 ario 111 antonietta e filp trap marcone zlatan daniel oxp aloa easy 28 mainhorn marcolinox 91 rasalghul 78 ita alfred 21 90 21 290 saluto tutti gli abbonati perché ho anche colgo l'occasione per ricordarvi che se volete abbonarvi potete farlo direttamente pagando questa piccola sub mensile oppure farlo gratuitamente accedendo con il vostro profilo twitch scusami col vostro profilo di amazon prime potete fare la sottoscrizione gratuita tra l'altro vi annuncio visto che siamo in tema di novità che dato che vedo che ormai molti di voi hanno accumulato tantissimi punti del mio canale i famosi i famosi cr tv points dalla prossima partita il la gara d'andata di europa league contro il manchester cominceremo a giocare e a utilizzare anche i nostri i vostri cr tv points poi vi spiegherò perché allora prima di andare avanti a salutare gli altri infatti ho visto che è arrivata anche la nostra mitologica maria ti ho pensato maria ti ho pensato perché quando è entrato muriel il colombiano muriel ho detto caspita ci vorrebbe un bel gol di muriel così poi esulta anche la nostra maria dalla colombia invece niente muriel non pervenuto e no allora partiamo col primo sondaggio di serata e ditemelo subito francamente chi è contento perché ha vinto l'inter e chi invece è dispiaciuto che l'inter abbia vinto questa partita votate uno se siete contenti due se siete incazzati io ve lo dico subito voto due scusate se non ho letto tutti ma la chat va veramente molto veloce non sono riuscito a stare dietro riscrivetemi la fotocopia del debito questa partita dice gara 525 ma guarda sinceramente no sinceramente no l'atalanta ha dominato il campo in lungo e largo ha fatto un primo tempo secondo me eccezionale e l'inter è stata fortunata a non prendere gol e brava a difendersi ma davvero si è difesa oltranza col milan sono partiti bene hanno trovato il gol hanno subito la reazione del milan però la partita l'ha fatta l'inter contro il milan sinceramente non sono non sono d'accordo con te davvero ricordati tremont vigno che se hai amazon prime abbonarti al mio canale il mio canale twitch è gratuito dopo parleremo del comunicato di vlt sull'acquisizione del milan certo live lamps chiedimi tutto quello che vuoi è un tema caldo ne abbiamo parlato anche nel mio video su youtube che ha fatto tante visualizzazioni se volete andarlo a vedere anzi adesso magari ve lo linko nuovamente perché è uno dei temi caldi di giornata poi parleremo del comunicato che è arrivato oggi già in risposta alle perplessità i dubbi che noi per primi abbiamo sollevato dopo il comunicato dello studio legale dell'avvocato felice raimondo che è uscito nel pomeriggio di sabato questa mattina immediatamente è arrivato il comunicato sempre per mano dell'avvocato felice raimondo da parte di questo alexandr yukov e poi parleremo di cosa si tratta complimenti e grazie a kabum 95 che fa il tifo per cristiano lui tv con un beat grazie kabum 95 votate pure il sondaggio è aperto ripeto uno se siete contenti che ha vinto l'inter due se siete incazzati come me vediamo cosa mi scrive marcone zlatan lo so è difficile tifare una vittoria dell'inter ma dobbiamo guardare a casa nostra sì però diciamo una cosa marcone ripeto a essere così concreti va bene ci può stare il tuo ragionamento però mancano ancora tantissime partite da qua alla fine quindi sai l'atalanta anche se avesse vinto oggi magari non andava lo stesso in championship io credo che la vera discriminante per l'atalanta sia la partita del prossimo 16 marzo se l'atalanta fa il miracolo fa l'impresa di vincere a valdebebas e ribaltare il risultato dell'andata e passare questo tour di champions league nella testa dell'atalanta va la champions league e diventa veramente difficile star dietro ai due impegni quindi secondo me quello se invece l'atalanta viceversa esce dalla champions come può essere molto probabile si dedicherà il campionato e io vi dico che l'atalanta giocando in questo modo nelle prime quattro arriva punto cioè non è che devi fare la corsa sull'atalanta ti dico atalanta senza champions juve con champions per me arrivano prima arrivano prima i bergamaschi della juventus ripeto atalanta senza champions e juve con champions termone dice un saluto anche a piecassa 96 che è un grande nostro abbonatissimo si è avuto la concreta dimostrazione che il calcio italiano è il calcio dei piscia sotto appena si segna ci si chiude dietro fino al 90 questo è un modo di giocare dell'inter termone conte che all'inizio dell'anno aveva si era un pochino sbilanciato in avanti poi per trovare la solidità la compattezza della squadra che cosa ha fatto ha rinforzato la difesa ha smesso di prendere gol difesa che tra l'altro ha ottime individualità e proprio come modo di giocare della squadra tutti raccolti dietro e sfruttare le due frecce che ha tra l'altro tornate anche in grandi condizioni di forma ha sicuramente vinto molto all'italiana ma ha vinto ha vinto e alla fine del campionato ci si ricorderà tutte le partite ci si ricorderà purtroppo da febbraio in poi di questa fuga solitaria dell'inter zapata dice poi da c milan diventiamo rsa milan in che senso non ho capito perché non ho seguito il flow delle battute tra te e ario se potete riassumemelo grazie l'inter è diventata una squadra compatta e coesa siamo squadra è vero vero assolutamente sì ormai da qualche mese a questa parte e se sei più forte tecnicamente hai l'allenatore più forte in panchina e anche il più pagato hai le individualità migliori e riesce anche a essere squadra insomma non puoi che vincere il campionato marco linux 91 cristiano ma come se ibra rinnovare come se ibra rinnovare anche l'anno prossimo sarà ancora attaccante titolare o sarà la prima alternativa questo è il punto marco linux io domani proprio uscirà un articolo su milan press firmato da me in cui parlo proprio di questo cioè la società deve fare una valutazione chiara questo giocatore che è stato stra fondamentale non lo ripetiamo ancora perché l'abbiamo detto un miliardo di volte abbiamo raccontato un miliardo di volte quanto in quest'anno ibra è stato importante per riportare il milan a ai livelli di qualche tempo fa punto dopodiché bisogna guardare avanti guardando avanti questo giocatore ha 39 anni già quest'anno ha saltato più di metà delle partite quello che è successo col festival di sanremo non mi è piaciuto e non è piaciuto neanche a paolo maldini è evidente che da crea degli scompensi che degli squilibri all'interno della squadra e a livello di immagine per il club con tutto questo dare 7 milioni e mezzo a un centro avanti significa dargli la maglia di titolare e preclude la possibilità a un altro di fare il titolare al suo posto io credo che milan soprattutto se va in champions league dovrebbe guardare avanti e pensare a un centro avanti titolare per il futuro che poi magari possa giocare insieme a ibra imovic o alternarsi nel primo anno con ibra che può anche essere molto importante per la sua crescita su questo non c'è dubbio però se milan vuole crescere come squadra e come società deve pensare a un centro avanti nuovo per il futuro ancora marcone dice concordo sulla tua dinamica iniziamo a battere il napoli domenica speriamo iniziamo intanto iniziamo a non sfigurare a oltrefford giovedì perché il milan anche a livello europeo ha un blasone da difendere e non possiamo andare a svaccare a manchester tra l'altro loro sono anche in grande forma sondaggio terminato allora sono guarda sono contento della vostra risposta perché per il 30 per cento di quelli che hanno partecipato al sondaggio sono contenti che l'inter abbia vinto il 70 per cento invece faceva il tifo per l'atalanta e io faccio parte di quel 70 per cento ripeto per due motivi il campionato è ancora lungo quindi non è che l'atalanta se avesse vinto stasera sarebbe stata sicuramente in champions league così come non è che perdendo è fuori dai giochi anzi per me ci va l'atalanta in champions league secondo che l'intero non si può tifare a prescindere riz 27 all'andata l'inter sbagliò più volte 2 a 0 venendo bai fatta gli ultimi minuti stasera si arriva a colpire e chiudersi no ma infatti io non critico la strategia di gioco di antonio conte anzi ha fatto benissimo ai giocatori per fare quel tipo di partita perché ha una difesa di ferro un centrocampo che copre molto bene la capacità di rilanciare buttarsi negli spazi in in pochi secondi e poi davanti due contropiedisti meravigliosi lui ha fatto benissimo a giocare sfruttando le caratteristiche della sua squadra chiaro se uno vedi 90 minuti nel primo tempo rimane incantato dal dal gioco dell'atalanta stupendo di dominio una metà campo avversaria dopodiché anche l'atalanta ha provato a giocare così col milan e invece milan gli ha dato più spazi dietro e l'ha attaccata di più abbiamo preso tre pere e loro con noi hanno fatto guarda guardate la partita di ilicic con noi ilicic sembrava la versione di maradona allungato stasera ilicic spazi nel secondo tempo è entrato e non ha trovato spazi mai pessima la prestazione di ilicic colmina fa sempre il fenomeno oggi malissimo zapata dice agguero a 32 anni scadenza un pensierino ma perché no però anche se ne prendiamo uno che magari ha 27 28 anni non è che ci fa schifo una volta tanto teodale dice dobbiamo dire addio lo scudetto cristiano diciamo che se avessimo avuto ancora qualche recondito sogno dubbio stasera ce li possiamo togliere anche perché adesso l'inter ha un calendario molto facile noi invece abbiamo il manchester due partite in una settimana in mezzo il napoli napoli che ragazzi è tornato in grande forma e battere il napoli domenica sera sarà molto difficile anche perché rino è uno che si chiude riparte e lo fa bene e poi la fiorentina firenze va bene quello sarà un impegno più agevole però arriva alla fine di un ciclo di partite davvero tosto ah ho capito con agguero agguero diventa rsa mila ho capito ho capito adesso la battuta ario e poi comunque un ingaggio molto alto ha ragione tremon ho visto che hai detto che domani collegherai l'account twitch a quello di amazon e allora aspetto caro il mio tremon vigno la tua il tuo abbonamentino perché devo dire che stanno aumentando tantissimo i follower e sono molto contento sono sempre più belle le live stanno aumentando anche gli abbonamenti e dalla prossima partita vedrete che cominceremo anche a fare dei piccoli giochi e dalla possibilità di utilizzare i famosi punti canale a questo proposito se vogliamo diventare sempre più numerosi vi ricordo se vi va naturalmente di condividere sui vostri canali social questa diretta e tutte le altre soprattutto quelle delle partite che sono quelle in cui sicuramente ci divertiamo di più mamma mia che romero che giocatore mi dice pop 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 quasi quasi lo preferisco a chi ha è molto bravo romero quest'anno si è affermato ad alti livelli live dice spero di essere in champions con i car di titolare ibra titolare non sarebbe davvero male è un po anche il mio sogno kabum dice domenica abbiamo il napoli e si sa si sa eccolo qua alfred buonasera a te dopo questa sera erics è definitivamente titolare entrato bene in partita pur senza fare sfracelli concreto attento sul pezzo vidal ormai va bene per le rotazioni cosa ne dici sì lo penso anch'io ho visto anche un erics in umile che buttava la palla in tribuna che spazzava via quando c'era da spazzare invece vidal guarda e alla fine conte che ha voluto a tutti i costi vidal alla fine è stato quello che gli ha complicato le cose a inizio stagione perché lo faceva giocare sempre in qualsiasi ruolo in qualsiasi partita anche quando non giocava bene faceva danni in champions league uscito un po da questo legame fisso con arturo vidal conte è riuscito a inserire ericsson ma anche gli altri a ridare al centrocampo quel dinamismo che aveva l'anno scorso quest'anno un po aveva perso manzukic lo abbiamo preso a fare vi dice la zanzara live diretta era una scommessa economica quando hai pochi soldi utilizzi quelli che hai per provare a fare bene e si è rivelato non integro fisicamente tra l'altro dovrebbe 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 andare almeno in panchina a oltrefford speriamo che che se si viene chiamato in causa sia in forma non come le volte che abbiamo visto grazie a eren che ci dice ci fa il riepilogo delle dichiarazioni di antonio conte sono tre punti importanti tre punti importanti contro un'ottima squadra stacchiamo l'atalanta per il discorso scudetto andiamo a 13 punti a cominciano ad essere tanti anche onesto obiettivo per me l'atalanta poteva mirare lo scudetto e questo è merito loro assolutamente ragione conte io penso che anche se non vincerà lo scudetto l'atalanta nelle prime quattro arriverà è vero pop sono d'accordo a manchester spero solo di non fare una brutta figura spero di fare almeno un gol in caso di sconfitta recuperare la san siro con i titolari non so in una settimana con in mezzo una partita contro il napoli quanto potremo recuperare sicuramente l'importante non fare una brutta figura sarebbe bello lasciare la gara la qualificazione in bilico per il ritorno questo sarebbe molto bello e molto importante io dico ecco quello che spero veramente di non di non sbaccare di un pendere 3 a 0 che ci sta perché il manchester è di una caratura nettamente superiore al milan se dovesse vincere anche 3 a 0 non c'è niente a dire non è per mettere mani avanti ma questa è una squadra con giocatori fenomenali ha battuto il city non più tardi di due giorni fa anzi ieri vediamo un po' col manchester prevedo due partite simili a milan al 2018 non sfiguriamo per nulla addirittura c'era qualcosa da recriminare l'arsenal passò per l'evidente superiorità tecnica e per l'esperienza ovvio che spero di vincere per l'esperienza non lo so live lamps perché noi eravamo molto vecchietti in quella in quella ah del 2018 oh scusami scusami stavo pensando ancora all'arsenal con carlo ancelotti quando segnò fabbrica a san siro no 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 capito capito ma sì vediamo 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 ci sta ho capito adesso scusami avevo frainteso pensavo all'arsenal con carlo ancelotti buonasera giopa buonasera a te riccardo pirrogolla a can e rebic recuperano contro il manchester c'ha la no glu no tonali teo e rebic sì questa è un po la la mappa a oggi per quanto riguarda i recuperi chi sa titolare a manchester mi chiede di che è una mira colla l'ho fatta già ieri la formazione ma la rifaccio secondo me donnarumma calabria chiaer tomori teo ornandez che si tonali rebic sale makers crunic e leao questa è come la formazione milan a manchester cosa ti aspetti la juve domani secondo me passano ho visto il porto ho visto giocare dieci minuti al dragao e a momenti fa due gol porto veramente una squadraccia quest'anno per me la juve non ha difficoltà a passare anche se difficilmente questa juve può arrivare fino in fondo e vincere la champions ma secondo me questo turno lo passano davvero se non lo passano noi siamo lì pronti a questi due voi stadi a tirare una bella sgufataccia a can e rebic recuperano contro il manchester mi chiede riccardo pirrogolla sì l'ho appena risposto scusate aughe che fine ha fatto pessina per l'estate è da prendere sì sì ma tanti della dell'atalanta sarebbero da prendere poi bisogna vederli se tolti da quel meccanismo perfetto danno lo stesso risultato aughe che fine ha fatto ha entrato sa uifa anche contro il verona però è molto diverso dall'aughe spensierato leggero che metteva in mostra le sue qualità tecniche fisiche di inizio stagione è un aughe molto bloccato soprattutto mentalmente io dico che secondo me bisogna aspettarlo l'anno prossimo preferire se vincesse la juve o l'intero scudetto teodale guarda sicuramente la juve sicuramente il problema è che secondo me non c'è più da sicuramente la juve perché tanto 9 o 10 non cambia questi se vincono lo scudetto chi li sente però secondo me non c'è molto da sperare ormai lo scudetto purtroppo è nero azzurro come ti chiami su instagram che condivido live te lo dico ufficialmente non ho instagram se vuoi puoi condividerla su io facebook tu condividila pure su instagram volentieri prendendo il link e condividendolo sul tuo profilo io non ho instagram o facebook twitter twitch youtube chi recuperiamo per manchester l'ho detto prima caro mio nico la zanzara live la 9 non sarebbe meglio ritirarla non sto scherzando voglio pensare che sia veramente un fatto di scaramanzia davvero non lo voglio pensare continuo a vedere un boadu mostruoso se in grado dovesse arrivare i cardi ben venga lui sì 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 io guarda quello sul quale avrei un po di perplessità è il gallo belotti non perché non mi piaccia perché il gallo belotti ha bisogno di giocare in tanto campo lui deve deve fare le sue sgroppate deve fare deve andare via in progressione secondo me se milan gioca diciamo nella metà campo nell'area avversaria belotti trova un po difficoltà le stesse che in qualche modo ha trovato piontech anche se penso che belotti sia più forte di piontech termon vigno dice comunque questa sera si è avuto la concreta dimostrazione che il calcio italiano e il calcio abbiamo detto prima abbiamo letto prima tra poco l'11 contro l'11 di united milan e maria maria ario 111 colarsene al ceregole di esistente di ricardo rodriguez è vero mi ricordo marcone zlatan cristiano tu non pensi che troppi infortuni muscolari siano dettati a una preparazione un po sbagliata no 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 guarda il milan se tu vedi se tu vedi quelli che dicevano milan ha un problema fisico è un problema del milan è mentale siamo andati in campo a roma abbiamo fatto un primo tempo eccezionale col verona anche tanti infortuni sono traumatici io ti dico una cosa marcone quest'anno è una stagione sportivamente drammatica per tutti per i muscoli di tutti tutte le squadre hanno un sacco di infortunati l'inter ne ha meno ma l'inter intanto non sta giocando in coppa da novembre primo e poi ha una rosa talmente smisurata e sconfinata che ha potuto permettersi conto di fare un richiamo di preparazione valutare i giocatori più in forma una rosa numerosa e con tanto valore per questo ha inciso poco ma se voi vedete le altre squadre che hanno giocato campionato e coppe che stanno continuando a giocare campionato e coppe quindi hanno dovuto tenere anche in inverno una preparazione leggera sono tutti massacrati infortuni la roma il napoli l'atalanta stessa la juve mila chi preferisci tra tovene e ottavio io tovene preferisco chi riscatteresti tra tomori dalotte ebrahime e meite ma per quello che abbiamo visto adesso tomori sicuramente anche dalotte dipende perché se il titolare è teo hernandez su quella fascia dove secondo me dalotte è più efficace che a destra spendere 20 milioni per una riserva è chiaro non ha senso quindi no brahim diaz a me piace mi piace il suo spirito mi piace la voglia di stupire di provare sempre il colpo però è veramente un po di scontinuo il ragazzo fuori l'atalanta fuori l'atalanta hanno quasi tutti fallito ricordiamoci che si è impiegato per tre anni per uscire da quel meccanismo ed essere quello che conosciamo oggi giusto live lamps un rilievo perfetto del resto siamo abituati a vedere giocatori che escono dall'atalanta e poi non riescono a mantenere lo stesso livello di rendimento pedritos dice il porto è tutt'altro che una squadraccia cristiana hanno fatto un grandissimo girone contatto di pareggio con il manchester city sì sì però e poi la stagione è proseguita il campionato il porto ha visto scappare lo sport in lisbona non ha grandi individualità cioè il porto gli altri anni era un'altra cosa il girone quest'autunno non l'hanno fatto male non era neanche difficilissimo ma in ora dice sarebbe proprio una beffa se la juve non passasse contro questo porto si è carina è un mio light motive perché non mi piace instagram non lo so già mi incasino con tutti i social che ho figure si mettono a fare anche instagram bank pro 727 dice cristiano giovedì crunic come kk secondo me hai esagerato con il porto visto che sei a lisbona adesso va bene tutto ha fatto un gol bellissimo una bellissima partita crunic però il kk che del 2007 ha vinto il pallone d'oro ragazzi è quello che fa che ha fatto a manchester facendo impazzire la difesa dello united kk e poi al ritorno ancora ce l'abbiamo tutti negli occhi e nel cuore saluto tobazzo rossi 003 annunciato rigore al minan bella la battuta è il tuo primo messaggio sulla nostra chat potevi anche farlo più simpatico non sto scherzando naturalmente sono ammessi anche sfottò battute eronie basta sempre mantenere ovviamente rispetto ed educazione tra i momenti mi spiace come sia finita con cutrone non aveva le caratteristiche per fare l'attaccante titolare di una squadra di alto livello e dobbiamo dire la verità lo conferma anche poi il prosieguo della sua carriera perché patrick sta trovando difficoltà ad avere continuità di impiego anche in tutte le altre squadre dove sta giocando in italia in inghilterra quindi non riesco a vederlo come un grande rimpianto se fossi in più li metterei meitel posso ritornare per dare fisicità ma soprattutto nelle ultime partite dimostrato di essere anche un titolare insieme al mostruoso presidente le ultime partite non lo so l'ultima verona ha giocato molto molto bene sì ci vuole fisicità ma tu giochi in casa le united ci vuole ci vuole tecnica ci vuole ci vogliono tante cose non basta la fisicità e sicuramente su quella niente non si discute alfred per come gioca conte belotti sarebbe perfetto come vicio lukaku vero verissimo d'accordo con te teodale dobbiamo arrivare prima noi a due stelle rispetto all'inter però quest'anno loro arrivano a meno uno e purtroppo teodale loro hanno anche una squadra che è più forte più matura più completa rispetto alla nostra e quindi temo disgraziatamente che ci arriveranno prima loro sperende no però ho questa paura noto spesso che il milan di solito fa grandi primi tempi un po' di secondi tempi c'è un calo incredibile ma no no perché non è vero abbiamo fatto anche buoni secondi tempi no ma io guarda questo problema qua fisico c'è ma c'è per tutte le squadre in un anno davvero incredibile con le partite schiacciate un'attaccata all'altra e zero possibilità di recupero zero vacanze non lo vedo come un problema particolare per il milan teodale dice magari all'inter tolgono dei punti perché non pagano gli stipendi speriamo sì ma anche se dovesse capitare che secondo me non capita perché su ninghi soldi ce li ha non li vuole tirare fuori perché spera che qualcuno compri l'inter che paghi debiti che che deve pagare ma lui soldi ce li ha quindi secondo me non capita ma se anche dovesse capitare era capitato al bologna qualche anno fa non è che tolgono 10 punti eh tolgono 1 2 punti cioè ma ma proprio se anche dovesse capitare bisogna arrivarci a 1 2 punti all'interno eh kabum 95 bisogna vedere che cosa kabum ha dei dei punti il lukaku maliano marega purgerà i gobbi speriamo speriamo bank pro ehm tramonvigno come certo il 2 a 1 dell'andata non è un brutto risultato ovviamente però eh se se il porto fa un gol eh per la juve la la serata si complica tanto eh ripeto secondo me passano però come hai vissuto la faccenda calciopoli uh guarda io mi ricordo già all'epoca in maniera molto lucida dissi signori eh i padroni del calcio italiano stanno facendo un arachiri incredibile perché per logiche di potere anche a sfondo politico perché sono il resto convinto che se le elezioni di quel 2006 non le avesse vinte la sinistra non sarebbe scoppiato tutto quello che è scoppiato regolamenti di Conte eh di Conti scusate e eh questi risarcimenti teorici per l'Inter però in quell'anno è stato mandato al tappeto del calcio italiano e la eh crisi di di fatturato la crisi di appeal la crisi di diritti televisivi cominciata in quell'anno nel calcio italiano poi non si è mai più risollevato eh cioè la discesa è cominciata nel 2006 eh il canto del cigno è stata la 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 vittoria di quel mondiale stupendo poi da lì in poi il calcio italiano è sempre andato incalando eh purtroppo al di là poi degli aspetti eh strettamente legati a agli aspetti disciplinari legali eh poi a livello economico il calcio italiano ha preso una botta dalla quale non si è più rialzato nel frattempo chi si è rialzato è il mio cane sulli che vuole mangiare a tutti i costi e adesso deve per forza arrivare qualcuno in soccorso per riempirti la ciotola altrimenti io devo interrompere la live non mi sembra il caso quindi ci sarebbe da portare dei croccantini per sulli grazie eh scusate l'intermezzo ma altrimenti avrebbe iniziato ad abbaiare come solo lui sa fare Ibra riesce a coprire per il ritorno contro il Manchester io penso proprio di sì dipende molto Riccardo da come andrà l'andata eh perché sai se Milan prende 3 a 0 l'andata sì Ibra non so quanta voglia abbia è bruttadissima di giocare eh il ritorno dovrebbero arrivare i croccantini grazie Marconi Zlatan non capisco perché è uno come Leao non riesca a esplodere è giovane ma viene detto ci un po' di palle hai ragione hai ragione tanto quest'anno secondo me aveva fatto delle buone partite e aveva è uno che si sbatte che corre che ci va però quello che mi è dispiaciuto di Leao a Verona che ha fatto secondo me alla fine una partita di quantità però lui è il centravanti del Milan centravanti unico deve provare a fare il dribbling a tirare in porta a andare in profondità deve provare la giocata deve provare il colpo non può essere così scolastico dice le palla da indietro cioè deve ha le qualità contro il Verona non mi sono dispiaciuti tanto gli errori di Leao proprio il fatto che non avesse voglia di far male all'avversario ecco e lui è il centravanti non sta facendo il centrocampista poi vedi Andresiva 20 gol in Bundesliga sì ragazzi ma io me lo ricordo Andresiva quando arriva al Milan 2017 non poteva giocare nel campionato italiano i gol in Bundesliga sono una cosa li fa anche Piontek i gol in Italia sono un altro mondo un altro mondo credi nel giovane Colombo alla Cremonese gioca col contagocce sì ma io visto che uno che mi sembra che abbia che abbia voglia che abbia grinta tecnicamente ti dico Tramon non mi sembra un fenomeno mi sembra un petagnone così a occhio Nico 27 Milan e Manchester United sono le squadre con più rigore a favore della Serie A e della Premier benissimo sono anche le due squadre che hanno il più il più alto numero di Champions League vinte in Europa League dopo a Old Trafford ci saranno in campo 10 Champions League non male ecco la Maria mi parte le domande parte con le domande De Gea Donnarumma voto nettamente Donnarumma cara la mia Maria credi maggiormente nell'Europa League o nel campionato mi chiede Mario percentuale di successo nei due dopo stasera campionato andiamo andiamo a zero Europa League è molto difficile perché perché giochiamo col Manchester ma secondo me non ha neanche senso adesso questa domanda perché è molto lontano Milan da entrambi gli obiettivi bisogna giocare fare partite vincere passare i turni e poi vediamo speriamo che la Juve vinca 3 a 2 maligno ma enorme ragione Kabum mi scrive se la Juve esce sarebbe una beffa perché è uscito con la ex Lionel Porto non sarebbe male tra l'altro io sono stato presente a tutte le ultime eliminazioni della Juve in diretta e per questo motivo ho insistito per andare in trasmissione speriamo che vada bene un saluto al Falco 2000 ciao ciao ricordo che se volete abbonarvi potete farlo sfruttando la gratuità di abbonarvi con Amazon Prime non dimenticatelo come ha fatto benissimo Alfred ciao ciao non ti chiedo percentuale scusato perché mi deve essere 100% inter cosa mi dici qualificazione Champions League Atalanta Roma si giocano al quarto posto Napoli può rientrare Juve rischia guarda io penso che penso che alla fine del campionato sensazione mia il Napoli arrivi davanti alla Roma per tanti motivi la Roma anche la Coppa e il Napoli ragazzi Gattuso l'ha rimesso in sesto bene e quindi secondo me nelle prime cinque ci sono queste e sta fuori una tra Milan Napoli Juve e perché io penso che l'Atalanta in Champions ci vada se esce con Real Madrid più forte Milan 2007 o l'Inter 2010 Teodale ma la domanda è veramente complicata non lo so non so mi metti veramente in difficoltà a me come giocava l'Inter di Murino del Tripleta non piaceva per niente per niente l'Inter è stata vicinissima a non vincere niente quell'anno ti dico il Milan del 2007 ti dico il Milan del 2007 dovrebbe metterci un po' più di impegno ma io penso che ce lo metta l'impegno non riesce a fare tutte le partite con la testa giusta non è un problema di impegno come vedresti il Milan in Premier League anche un po' di convinzione gli manca secondo me a Leao come lo vedessi il Milan in Premier League in che posizione di classifica lo piazzeresti non lo vedo per fortuna non lo vedo perché guarda leggevo proprio ieri la classifica della Premier e fino al settimo ottavo posto in teoria la possono vincere tutti è davvero l'NBA del calcio meglio che il Milan non ci sia e anche le altre squadre italiane farebbero nessuna squadra italiana potrebbe vincere la Premier League anche la Juve io farei carte false per avere Muriel al mio Milan sono innamorato di lui mi ricorda come tipologia di gioco il fenomeno dei primi movimenti fatti in Italia con le vedute proporzioni ovviamente venderei tutto l'attacco e prenderei lui sì tra l'altro sai che Arie Dobraida voleva Muriel al Milan giovane ha avuto poi delle annate difficili secondo me non è stato sempre un professionista eccelso all'Atalanta mi sembra che si sia rimesso con la testa giusta ha tecnicamente dei dei delle qualità immense deve metterci la testa sì davvero tanto lui l'indelofo chiare mi chiede Maria ma secondo voi io dico in questo momento chiare poi non mi dite come dice con tutti quelli del Milan a Live Lamps dice c'era una teoria sull'ascesa di Andrea Agnelli e degli Elkan una storia di golpe perché la triade stava prendendo troppo potere all'interno della Juve e con le scommesse dell'avvocato del fratello stavano avendo pieno troppo potere si cercò di piazzare cobolligidi i primi due anni per poi entrare quando le acque si furono calmate scusa per la teoria complottista no Live Lamps è una teoria reale io questo racconto un piccolo episodio all'epoca seguivo la Juve come giornalista e ci fu il consiglio di amministrazione nel mese di marzo Calciopoli scoppiò poi a maggio tra le varie notizie in piazza Crimea la sede della Juventus non ho il rincorso Ferrari già scusate ci fu comunicato al termine del CDA che era stato inserito nel consiglio di amministrazione questo Carlo Sant'Albano una notizia che sembrava poco significativa ragazzi Carlo Sant'Albano è quello che poi è diventato il commissario straordinario del consiglio di amministrazione della Juve quando è stato fatto fuori Antonio Giraudo e io mi sono ricordato che lui era entrato due mesi prima per poi diventare il commissario straordinario quindi evidentemente qualcosa in pentola già bolliva e come no sono d'accordo con il nostro anche perché addirittura si parlava che Giraudo dovesse fare la scalata alla Juve poi Giraudo è scomparso totalmente dai radar è andato a fare tutt'altro sicuramente c'era è stata una concomitanza di di poteri che convergevano a un certo punto nella stessa direzione è andata così Teo Hernandez ciao è qua però me li metti tutti a favore del Milan eh Teo Hernandez tra Fred e che sì che sì Bruno Fernandes tonali nettamente Bruno Fernandes carla mia Maria tieni conti eh Alfredo visto che ti sei che ci sei abbonato tramite Prime se me lo spieghi come fare è una settimana che non ci ho capito niente spieghiamola l'IP 1988 come se ci sia buona tramite Amazon Prime così sia buona anche lui il 2005 è stata la scuola più forte che abbia mai visto dopo quella di Sacchi ovviamente ma ero troppo piccolo sì 2005 eravamo nettamente più forti rispetto al 2007 ma purtroppo non abbiamo vinto niente pur essendo arrivati vedi Milan del 2005 ha fatto la stessa stagione dell'Inter del triplete gli è mancato il finale perché abbiamo perso lo sconto scudetto con la Juve San Siro tra l'altro la finale già vinta con il Liverpool io guarda eh io mi ricordo il Milan di Sacchi e il Milan di Fabio Capello ecco quella squadra lì il Milan non è mai più arrivato a quelle vette negli anni dopo in particolare ricordo il Milan 91-92 che era 91-92 e 92-93 che vinceva il campionato a occhi chiusi l'anno dei sei stranieri che erano Van Basten, Rijkaard, Gullit, Papen, Savicevic, Boban questi erano i sei stranieri del Milan e più c'erano Donadoni, Baresi, Ancelotti ragazzi quella era Maldini quella era un altro mondo Inter, Juve, Milan, Napoli, Atalanta, Roma questa è la classifica finale ci sta l'IP? ci sta ci sta Muriel è sposo dall'Atalanta lo ha fatto molto bene anche nelle sue precedenti esperienze in Spagna ma anche alla Samp è stato discontinuo quello sì ma anche all'Atalanta diciamo non è titolare inamovibile Muriel è titolare zapato allora segui le info che trovi a questo link grazie Alfred per i consigli James o Cialanoglu nettamente James ma Maria non credo che giochi Cialanoglu eh non lo so non credo Muriel lo avevamo praticamente preso due anni fa con Leonardo ma ha preferito andare alla Fiorentina vero 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 dice Luca Boate grazie anche a te Luca che ci segui Kabù 95 perché non prendiamo Muriel? eh sì poi dopodiché Muriel è un altro giocatore che va lanciato deve giocare in velocità insomma bisogna vedere lo titolare al Milan Muriel è numeri strepitosi bisogna vedere lo titolare al Milan Rashford o Leao non c'è dubbio ma gioca Rashford Maria Tomori o Maguire è qua boh difficile Nico veramente però mi sa Maguire non lo so che scuola hai fatto per diventare giornalista sportivo? guarda io ho iniziato a sognare di fare giornalista sportivo quando ero in seconda elementare e in qualche modo ho cominciato a farlo fin da piccolo grazie all'amicizia con Carlo Pellegati di famiglia tra l'altro ecco magari quest'estate sul mio canale YouTube quando finisce il campionato nei momenti così un po' più di pausa se volete dedicherò delle live o dei video su YouTube per raccontare anche un po' la mia storia come giornalista visto che in tanti sognano di fare questo lavoro e me lo chiedo ed è un sogno davvero stupendo però io ho avuto la fortuna di iniziare a farlo da piccolo addirittura andavo a Tele Lombardia quando ero alle medie e facevo questa rubrica del piccolo intervistatore pensa a te poi sono entrato a Tele Lombardia che ancora andavo al liceo ho fatto il liceo classico a Milano e ho cominciato a fare il giornalista prima che l'università ho preso il testino da pubblicista a 20 anni nel 99 e quello da professionista a 24 anni nel 2003 mi sono lavorato dopo aver preso dopo che ero già giornalista professionista in sociologia con indirizzo mass media comunicazione e marketing ma già lavoravo da 7 anni a Tele Lombardia e insomma poi ho fatto questo come lavoro principale per 20 anni per 20 anni Rashford gioca, ho letto che si è fatto male ho letto anch'io, vediamo come stanno, no notizie fresche da Manchester a confronto a qualche anno fa ero allo stadio con mia moglie a esultare per il 2-1 contro il Crotone con i gol di Lapadula adesso siamo in Real Milan a confronto è vero, è vero Marcone, sono d'accordissimo con te e questo lo dobbiamo sicuramente all'arrivo di Ibrahimovic che ha cambiato la mentalità di tutti non per questo però dobbiamo consegnare il Milan a Ibrahimovic perché il Milan deve essere il Milan, deve avere i suoi dirigenti il suo allenatore e i suoi giocatori ognuno deve, con delle eccezioni per carità ma bisogna stare ognuno al suo posto perché le cose funzionino Maria, Castieco perde con tutti il confronto quindi sicuro chiunque vuoi mettere del Manchester lo vince Barza95 che schifo vince due big match con due tiri però Barza, a gennaio hanno battuto la Juve a febbraio hanno battuto il Milan oggi hanno battuto l'Atalanta non facciamo come loro vincevano questo scudetto con merito sono più forti, hanno speso un sacco di soldi per fare questa squadra danno 12 milioni di euro all'allenatore sono usciti a novembre dalla Champions League Teodale, domani fai la cronaca del Porto a cui studiavo il stadio? sì, sì, sono in diretta dalle 19 a mezzanotte per seguire la Champions League della Juventus guarderò anche con mezzo occhio il ritorno del Siviglia a Dortmund anche se si parte dalla sconfitta al Sanchez-Pichuan dell'andata sarà molto difficile per la squadra di Lopeteghi però vediamo come andrà a finire a me di quella triade lì della Juve mi piaceva che ci capivano di calcio hanno preso gli Emerson, Cannavaro scoperto dai giocatori come Ibrahimovic e Vera da questo punto di vista non solo Moji ma proprio l'entourage che aveva lo staff di osservatori che aveva erano molto molto bravi era una Juve che aveva anche una primavera molto molto forte dalla quale sono usciti tanti giocatori di livello Live Lamps dice quanta verità nelle tue parole qua a Marconi Zlatan è stato vicinissimo al Milan Muri alla fine ha scelto la Fiorentina sì 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 vi ricordo che per abbonarvi a questo canale è possibile collegare l'account Prime da PC è possibile scegliere il tipo di abbonamento da sottoscrivere da smartphone bisogna aprire il browser internet andare su Twitch e connettersi da lì lì dà la possibilità di abbonarsi con Prime gratuitamente questo per il nostro Lip 1988 che a questo punto dovrebbe aver capito dovrebbe abbonarsi può farlo anche il Falco ma per fare i giorni bisogna essere per forza laureati no non è necessario però adesso diciamo che l'inclinazione la consuetudine è di prendere o stegisti che stanno completando il corso di laurea o ragazzi già laureati questo ai miei tempi no infatti mi sono laureato dopo essere diventato giornalista però adesso è un po' la consuetudine caro il mio Falco cosa pensi il comunicato del fondo di Youcov? il fatto che venga pubblicato su Milan News mi fa pensare visto che è un sito che non pubblica mai articoli che possano mettere in bilico gli equilibri societari della squadra sei molto attento a Live Lamps è proprio così anche se qualcuno si offende ho visto anche le reazioni su Twitter sul mio Twitter però ragazzi dire che Milan News non pubblica mai nulla di sgradito alla società è la verità ci sono anni di storia di questo sito che evidentemente dimostrano questo e anche diciamo il gruppo editoriale che controlla Milan News non ha mai scritto nulla contro gli interessi societari del Milan la cosa curiosa è qualunque sia stata la società cioè non scrivevano nulla contro il Milan di Berlusconi non scrivevano nulla contro il Milan di Jong-un Lee non scrivono nulla contro il Milan di Elliot e non scriveranno nulla contro il Milan di Yukov c'è questa consuetudine quasi come se fosse un sito societario anche se non è un house order non c'è nulla di male a dirlo curioso tra l'altro che proprio Milan News abbia pubblicato abbia dato risalto per primo al comunicato di Felice Raimondo l'avvocato come di tanti altri uscite appunto di Felice Raimondo quando si parlava della composizione societaria in Lussemburgo del Project Red Black della rossoneri investment LAX insomma tutte queste indicazioni sono arrivate dall'avvocato Felice Raimondo dallo studio dell'avvocato Felice Raimondo e poi riprese da Milan News anche questa dichiarazione di interesse da parte del fondo VLT ha avuto lo stesso percorso e anche qua mi sembra strano perché è strano che è curioso che dopo aver difeso la composizione societaria diciamo così di Elliot adesso lo stesso piccolo studio legale con il massimo rispetto di Felice Raimondo sia lo stesso studio che si sta occupando di questa trattativa che invece è una trattativa insomma per un club che potrebbe valere 900 milioni di euro un miliardo non lo so strano che ci si affidi a uno studio comunque piccolo invece a livello internazionale è stato affidato la pratica è stata affidata da Baker & McKenzie che è insomma uno dei primi studi al mondo è molto particolare tutto questo è arrivato subito anche questo comunicato che ha voluto ribadire il fatto che questo fondo anche se è nato nel 2020 è un fondo importante con tanti interessi concretamente però non si è visto nulla la società che è stata registrata nel Wyoming ha un capitale sociale di 100 dollari non particolarmente rassicurante è stata costituita in un centro ufficio dove si appunto costituiscono società che spesso sono scatole vuote quindi ci racconteranno che alle spalle ci sono i magnati gli oligarchi eccetera eccetera sostanzialmente questo Yukov è uno sconosciuto la società è stata fondata nell'agosto 2020 tra l'altro in piena pandemia in piena crisi mondiale è molto strano vedremo secondo me secondo me si farà l'operazione questo è quello che mi preoccupa di più posso chiederti della serie Elliot rimane nel Milan per tanti anni perché ci crede l'immagine vuole Elliot ha prestato dei soldi a chi ha comprato il Milan diciamo ha prestato dei soldi al proprietario del Milan non ha mai voluto comprare il Milan come non vuole comprare l'Inter come non vuole comprare la Juve come non vuole comprare la società di calcio Elliot presta e favorisce operazioni finanziarie questo l'abbiamo sempre detto tant'è vero che non c'è scritto in nessuna parte che Elliot è proprietario del Milan Elliot si dice che controlli le azioni di due società che detengono il 99% del Milan con sede nel Delaware però in teoria quegli investitori che hanno i soldi in quelle società che hanno le azioni di quelle società possono essere chiunque perché non c'è obbligo di dichiarazione dell'effettivo beneficiario in Delaware c'è in Lussemburgo e infatti si sono messi da una parte davanti al cerchione con il fondo Blue Sky e dall'altra parte Singer per le azioni controllate da Elliot a proposito nel comunicato di Yukov non so se l'avete visto è strana questa cosa perché si parla del intavolare trattative sia con Elliot sia con Blue Sky che la società di davanti al cerchione è stranissimo perché dall'azione alla mano insomma Elliot avrebbe il 95% della Project Redback e Blue Sky il 5% quindi è strano che si intavoli una trattativa o un discorso con chi ha il 5% sì per carità ci stanno anche loro però non è una percentuale così rilevante l'importante è trovare l'accordo con Elliot e invece Yukov menziona il fondo Blue Sky perché è importante perché lo sottolineo perché nel penultimo video che avevo fatto su YouTube dicevo che era molto strano che Blue Sky quindi davanti al cerchione con solo il 5% di Project Redback avessero una serie di deleghe nello statuto societario che consentiva loro di dare l'ok o non dare l'ok su tantissimi aspetti legati agli aspetti finanziari agli aspetti strategici economici anche tecnici ed è molto strano insomma che per tante decisioni fosse obbligatoria all'interno del Consiglio di Amministrazione del Milan l'unanimità quando la sperequazione tra il possesso delle azioni da una parte delle società di Elliot dall'altra di Blue Sky era evidente ecco è molto strano che una società che è partecipata al 95% da un'entità o da alcune entità ci si vincoli ci si vincoli all'ok al nulla osta invece di chi possiede il 5% però secondo me ne vedremo ancora delle belle in questa vicenda sapete che su YouTube ho la mia rubrica l'accessione misteriosa e secondo me faremo ancora tanti 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 capitoli Poschietti una cosa mi dice Marcone non c'è tanto niente ma la famosa sera di Udinese Palatinaikos con Alan Tonetti era arrabbiato ero arrabbiato io no 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 in quel momento lì no era un po' così perché prima della trasmissione Ravezzani mi aveva detto mi raccomando Tonetti è la prima volta che fa la cronaca dagli due o tre indicazioni obiettivamente le indicazioni che gli ho dato non sono servite a molto e diciamo che quindi mi sentivo in qualche modo responsabile del disastro vorrei anch'io fare il giornalista dice Teodale come tema il problema è la voglia di studiare questo è un problema però Teodale per tanti lavori non so per il giornalista anzi per il giornalista meno che per altri lavori voglio guardare te contro Monbrano però Maria non faremo la cronaca perché la partita è in chiaro quindi faremo il commento della partita hai visto la femminile ha perso la partita scusata con la 2 per 4 a 0 Tremon Vigno ti dico una cosa molto francamente sbaglierò io non guardo il calcio femminile non mi piace non mi entusiasmo non mi piace nulla contro perché poi oggi l'8 marzo però non mi piace non so cosa farci non mi piace non mi entusiasmo sarà un limite mio Andrea Bandiera 22 eccolo qua ciao ciao Andrea lo so però oggi hanno vinto hanno vinto buonasera a walklory1028 benvenuto o benvenuta buonasera a tutti da Juventino benvenuto penso molto supervalutato a questa Inter per me calerà sì ma non quest'anno non è questo che quest'anno vincolo il campionato speriamo che l'anno prossimo cali non penso anch'io il cambio di proprietà è probabile è possibile o sicuro io dico che è probabile perché è proprio la conformazione dell'uscita delle notizie che me lo fa pensare cioè qua è successa una cosa più unica che rara di solito in questi casi avete visto anche con l'Inter escono delle indiscrezioni di stampa alcune smentite altre confermate altre smentite a metà e si utilizzano i giornali per far uscire queste voci qui invece la comunicazione arriva dallo studio legale che cura la trattativa è una cosa anomala lo stesso studio legale che si era interessato diciamo aveva dato una mano a Elliot per la proprietà del Milan attuale per confermare determinate cose soltanto lo scorso autunno quindi secondo me c'è già la cosa ancora più strana è che non è nemmeno nemmeno stata comunicata una due diligence non è che è stata fatta la due diligence adesso c'è una manifestazione di interesse o viceversa sarà fatta la due diligence no mai nulla molto strano si parte in maniera molto strana il fondo è molto strano perché è nato nel 2020 movimenta miliardi e miliardi sì però il capitale sociale di 100 dollari e movimenta miliardi e miliardi non si sa di quali società non si sa Yukov è uno sconosciuto insomma tante componenti ci fanno pensare che si farà ma non bisogna essere molto contenti allora Rosa Eolindo mi scrive crede ancora nello scudetto no sinceramente no secondo te l'Inter gioca in contropiede mi chiedo Marco Alba secondo te l'Inter gioca in contropiede scandiamo bene le parole sì gioca in contropiede ma non è un peccato cioè non è che giocare in contropiede ti tolgono dei punti in classifica purtroppo funziona se hai poi giocatori adatti il Milan in casa del Sassuolo ha giocato in contropiede ha vinto sono stato felice ieri a Verona abbiamo giocato in contropiede abbiamo vinto sono felice qualcosa di Milan News l'ho capita dal momento in cui non hanno mai pubblicato un più virgolettato post ma sempre solo le risposte ai tuoi ai nostri dubbi facile mangiare la foglia guarda Live Lamps devo dire che sei molto 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 lungimirante bravo Live Lamps sì poi non è che io me ne faccia un problema un cruccio tutt'altro anzi sono anche contento di poter esprimere liberamente il mio parere se non voglio pubblicare le cose che dico ci mancherebbe altro pubblicano quelle di tanti altri colleghi molto bravi e va bene così mi fa specie che invece quando qualcuno dice qualcosa contro di me loro pubblicano subito allora io non conto niente e sicuramente non conto niente non conto niente né quando dico le cose io né quando gli altri rispondono a me ecco è un conto niente in ogni caso non soltanto in un senso però vabbè andiamo avanti tanto abbiamo capito e sono contento che c'è qualcuno che capisce intuisce da che parte tira il vento se domani vedi Alfio per favore salutamelo e sarà buono su Instagram va bene Maria glielo dirò se domani lo vedo che Yuko sia un'altra scatola cinese che va solamente ad aggiungersi la sensazione c'è cioè la conformazione della struttura societaria di Yukov è quella di una scatola vuota e di solito le scatole vuote sono lì per nascondere altre non è che si creano le società così per hobby quindi la sensazione che ci sia sotto un'altra operazione finanziaria è evidente ma soltanto un illuso poteva pensare che Elliot un giorno abbia deciso compro il Milan Elliot interviene per fare in modo che Yongong Lee completi un'operazione che già era molto discussa e molto misteriosa si ritrova al Milan ma ripeto soltanto uno stolto può pensare che Elliot abbia detto prendiamo il Milan e facciamone una grande squadra non è questo l'interesse di Elliot non lo è mai stato sono anche così voglio dire ammirato del fatto che c'è sempre qualcuno pronto a eludersi a credere alle favole tipo quella di Louis Vuitton di Arnold che doveva prendere il Milan eccetera eccetera mi fa sorridere che sogniamo per un anno e passa Arnold e poi ci ritroviamo con Yukov non è molto rassicurante però se io lo dico se io denuncio queste cose dicono ah tu vuoi il male del Milan viva Yukov come dicevano tutti viva Yongong Lee viva Fassone viva Mirabelli ora tutti sul caro di Yukov ragazzi finché il Milan non troverà una composizione societaria e un proprietario vero stabile che ci metta la faccia più dei soldi è importante metterci la faccia e se la faccia è quella di Yukov io sono molto preoccupato perché lì c'è la faccia ma non ci sono i soldi eh Tremon Vigno buonanotte hai già finito è volata quest'ora ragazzi Tremon Vigno me l'hai ricordato meno male puntualissimo bravo una sera Andrew Bomb si è arrivato un po' tardino tra pochi minuti sarò sul canale YouTube e il teatro dello Sincias improvvisamente te lo trasmetterò su Twitch scatenata Maria Marconeslata notte notte a te ci vediamo alla prossima sempre Forza Milan con il Manchester 6 Live su Twitch si 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 ci vediamo qua perché sono in cronaca dalle 18.45 su Twitch ci sono anche delle sorprese inaugureremo il pronostico durante la partita e potrete iniziare a riscattare i vostri punti canale insomma tante novità ma soprattutto seguiamo il nostro Milan a Old Trafford quando sarai a QSVS per commentare Milan sono domani sera per commentare la Juve un'altra domanda ma al no non è mai stato in orbita Milan zero ragazzi il Milan purtroppo questo lo dico sempre è una società che da oltre 30 anni colleziona passivi di bilancio e quindi e ha un costo di gestione molto alto così come è conformata non è appetibile esattamente come l'Inter per chi vuole investire perché se Arnold decide di entrare nel mondo del calcio prende una squadra di serie B o anche di serie A che ha bassi costi bilanci in attivo la prende fa lo stadio compra i campioni è quello che hanno fatto gli shakey con il Paris Saint Germain e con il Manchester City non è tanto diverso è molto più facile fare così piuttosto che prendere una squadra che costa tantissimo sia il brand al blasone ma vi dico un'altra cosa non c'è nessuno al mondo che pensa di poter fare meglio come presidente di quello che ha fatto Berlusconi quindi anche se uno dovesse fare benissimo comunque sarà sempre il minimo di Berlusconi se invece che ne so Arnold prende il Chievo sarà il Chievo di Arnold è vero voi dite non c'è i tifosi ma poi i tifosi arrivano ma il giro il turno verano il bilancio dico il Chievo ho fatto l'esempio sbagliato perché la squadra di un quartiere di una città però anche la squadra di una piccola città poi il giro si fa cioè il Milan come fatturato è dietro a squadre di Gelsenkirchen a squadre di Francoforte che non hanno un passato non hanno un background calcistico è dietro a squadre francesi è dietro al Siviglia eeeh quindi è vero che il Milan ha un brand ha una storia irripetibile proprio perché è irripetibile che non è appetibile scusate per il vestigio di parole e dico purtroppo soprattutto se ha una conformazione economica di questo tipo cioè un club che costa tantissimo e che ha i ricavi sempre in calo quindi la cosa fondamentale è invertire questa tendenza cioè cominciare pian piano a andare verso la direzione di un club virtuoso allora sì forse ci potrà arrivare un vero proprietario però purtroppo la direzione non è quella da molti anni anzi eeeh ti posso chiedere com'era la storia con la scala che una volta ti aveva insultato ma guarda magari dedicheremo un po' di tempo a questa cosa io ho pochissime azioni del Milan c'erano ancora Galliani c'erano ancora Berlusconi stavano costituendo questo comitato di piccoli azionisti che poi aveva l'obiettivo di massacrare Gagliani a ogni consiglio di amministrazione a ogni scusate assemblea dei soci io ho detto sinceramente vi ringrazio vi ringrazio non voglio partecipare non voglio far parte molti altri quasi tutti i piccoli azionisti si sono riuniti non so se forse c'è rimasto male per quello la scala o non lo so dopodiché ho cominciato a contestare apertamente quello che stava succedendo prima Mr. B poi Yong Gong Lee il CDA di Fassone io fui l'unico a votare contro la composizione del CDA di Fassone e allora lì si scatenò la scala che già da allora evidentemente si capiva che aveva qualche interesse da una parte a massacrare l'amministratore delegato precedente dall'altra a sostenere qualunque dirigente sia arrivato dopo Gagliani bastava che non fosse Gagliani tutti gli altri andavano bene Gagliani non era infallibile ha commesso tantissimi errori ha fatto l'amministratore delegato il Milan per 30 anni gli altri l'hanno fatto per un anno adesso Gazzidis per due facendo disastri ecco l'unica cosa positiva di Yukov è che se dovesse cambiare nuovamente la proprietà del Milan cambierà un amministratore delegato e si avvererà quello che avevo detto io nel video qualche mese fa cioè che a giugno Gazzidis avrebbe finito quella è l'unica cosa positiva la cronaca la farei per il Milan io per lo United Maria è molto simpatica ragazzi buonanotte abbiamo stiamo sforando grazie Mario troppo troppo gentile davvero troppo buono buonanotte no non ci mancherebbe altro siete voi gentili che dedicate del tempo a me e per me è un piacere mi diverto molto stare con voi nel frattempo Lip ci rinuncia non riesce ad abbonarsi riesce a collegare i profili non trovi dove c'è l'abbonamento con Twitch ci riproviamo a farlo giovedì se non ci riesci un saluto a Loa Isi è arrivato tardissimo oggi qual è il tuo modello di montatura per gli occhiali mi chiede Maria questi scamiseria sono di Armani sono di Armani così no perché ne ho un altro paio e sono di Dolce Gabbana non mi ricordo mai questi sono di Armani buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao ciao ci vediamo giovedì 18.45 per la cronaca di Manchester Milan Lip 1988 hai tre giorni anzi tre giorni per abbonarti proviamoci dai ciao ciao a tutti ciao a tutti